Gentili telespettatori, buona giornata. Matteo Renzi con un giorno di ritardo, dopo un silenzio glaciale, parla di Enrico Letta. Se fallisce, puntini puntini, vediamo che cosa dice, ma ovviamente il ricordo di sette anni fa, Enrico stai sereno, e lo ha fregato, lo ha fatto dimettere, ha preso il suo posto. Insomma, diciamo che Enrico Letta si ricorderà bene di come si è comportato Matteo Renzi. Stai sereno, Letta, ormai è diventata una frase famosa, stai sereno, detto a Gianni Letta, Gianni, scusate, Enrico Letta. Beh, insomma, con un giorno di ritardo Renzi commenta la nomina a segretario del Partito Democratico di Enrico Letta che ritorna dalla Francia. Forse si era autoesiliato proprio perché c'era rimasto male sette anni fa e se n'era andato, chi lo sa. Dove era stato pugnalato letteralmente da Renzi nel 2014 nella sua scalata Palazzo Chigi. Beh, insomma, Letta torna alla politica italiana. E dice così Renzi, con buona pace di chi vive di Livori, il fatto che Letta sia tornato nella politica italiana in questo momento, per me, è una buona notizia. Se riuscirà a risollevare un PD, noi saremo contenti per lui e per il PD. Se non ci riuscirà, stavolta nessuno potrà utilizzarci come alibi. Quindi se fallirà, se fallisce, niente alibi, non è stata colpa di Italia viva. Ma diciamo che Renzi è contento che ci sia Letta a capo del PD perché era la soluzione peggiore per questo partito, veramente, no? L'usato sicuro, non il nuovo che avanza, ma il vecchio che ritorna. E vecchio non è anagraficamente parlando. E così Renzi è euforico perché ha detto benissimo, con Letta il PD non può che perdere altri voti e magari arrivano da lui. Da me, dice. Cosa che non sarà così perché realmente in Matteo Renzi non crede più nessuno. Il partito è sceso, sembrerebbe addirittura al di sotto del 2%. Sta per scomparire, per diventare quei partiti da zero virgola qualcosa. Lui voleva chiuderlo il partito e rientrare nel PD con Bonaccini, ma Bonaccini non l'hanno eletto perché era uno giusto. Invece preferiscono mettere uno con la borraccia che ho scritto Bella Ciao e il voto ai sedicenni, lo Iussoli come priorità. Vabbè, insomma, Renzi se la starà ridendo e dirà mamma mia, guarda cosa sono andati a prendersi di nuovo fantastico. Perché l'obiettivo di Renzi è quello di distruggere questo PD in modo che i votanti in qualche modo possono arrivare anche a lui, ma come vi dicevo è un qualcosa di illusorio. Classica situazione in cui il messaggio lanciato da Renzi nella sua e-news non sembra comunque dei più rassicuranti dal momento che già mette in conto il fallimento dell'alleato. Dice, beh, se ci riesce a risollevare il PD, noi saremmo contenti per lui e per il PD. Se non ci riuscirà, stavolta nessuno potrà utilizzarci come alibi. Ecco. Per il presente il PD, scegliendo Letta, ha fatto una scelta equilibrata, dice sempre il Renzi. E da lui vanno i miei auguri di buon lavoro. Amici, dice, diciamoci la verità. La linea politica di Zingaretti era, come dire, leggermente confusa e le sue dimissioni lo hanno plasticamente confermato. Enrico Letta è invece rientrato in campo e ha delineato un profilo riformista molto diverso dal recente passato, a cominciare dalla legge elettorale e dal rapporto con i 5 Stelle. Insomma, come dice Renzi, che Zingaretti era leggermente confuso, questo è vero, l'uomo dell'aria fritta che diceva tutto e niente, ma alla fine era niente, in un partito che era una scatola vuota. Però, se mi dici che Enrico Letta è rientrato in campo per delineare un profilo riformista, io ho visto un uomo tristissimo, col bicchiere che ho scritto Bella Ciao in vista per le telecamere e lo Jussoli come priorità. Se questo è un leader, mi verrebbe voglia di scrivere un libro, se questo è un leader, con la foto di Letta così. Insomma, dai, questo non è un leader, questo è un leader usato, riciclato. Dico io, ma con tutti i leader che c'erano dove siete andati a prendere questo? Ma perché? Ma perché? Perché è un ex premier? Ma che vuol dire? Letta. Ma come vi è venuto in mente? C'era lì Franceschini, Orlando, non lo so, ci sono lì tanti di quei politici che avrebbero potuto fare il capo politico e vanno a prendere Enrico Letta. Non so se vi ricordate il governo di quasi un anno dove non ha combinato niente questo Letta. Vabbè, ma Renzi ci vede il profilo riformista alla faccia del riformismo. E poi dice vediamo se dalle parole si passerà i fatti, perché le narrazioni sono sempre bellissime e poi ciò che conta è la realtà. Non resta che attendere, saranno due anni ricchi di interesse. Leggo che qualcuno dice adesso Italia Viva non conta più nulla. Sono gli stessi che avevano già pregustato il conte terzo. Dice Renzi. Descritto come inutile, la crisi è scritto, numerosi articoli per spiegare perché i gruppi parlamentari non avrebbero superato la prova della crisi. Sarà un piacere smentirli anche stavolta. In questo vuoto di politica chi ha idee conta sempre. Italia Viva ha molte idee da valorizzare. Sì, ma non conta niente, caro Renzi, la tua Italia Viva, perché non ti crede più nessuno. Però il fatto è che con l'arrivo di Letta tu non puoi rientrare nel PD dalla porta principale e sei in un partito fallimentare. Il governo, ti ricordo che non durerà due anni, ma un anno o meno di un anno quando poi Draghi salirà al Quirinale, come quasi certo e soprattutto le tue correnti che sono all'interno del PD, se si andrà a votare con il segretario Letta, le tue correnti verranno eliminate e arriveranno tutte persone nuove. Quindi tu perderai le truppe, perderai il posto nel PD e sarai con un partitino e verrai probabilmente fatto fuori dalle votazioni, perché i partiti che non arrivano al 3% sono eliminati dalla politica, almeno per tutto il governo che verrà. Quindi Renzi certo non è felice, ovviamente lui sperava in un Bonaccini, tutti indicavano Bonaccini, invece hanno preso l'usato sicuro, ma il sicuro insomma non so quale sicuro sia, però l'usato hanno preso Enrico Letta. Io vi ringrazio per avermi ascoltato e vi auguro buon proseguimento di giornata. Arrivederci a tutti.